Che cosa mi dici sul corso biomedico? Il corso biomedico è un progetto del Liceo Classico Pitagora che ci permette di cominciare già dal quarto o dal terzo anno a capire se la medicina o comunque la biologia fanno per noi e allo stesso tempo ci prepara anche per i testi medicina volendo perché comunque cominciamo a studiare cose che riguardano la medicina, gli alfatest, quindi è una bella iniziativa secondo me. Tu hai scelto di fare medicina dopo il diploma? Ho già l'idea abbastanza chiara anche perché questo progetto mi ha aiutato molto a capire comunque qual è la mia direzione nella vita. Ecco, qual è la tua direzione nella vita? Io sicuramente prenderò medicina anche perché questo corso poi mi ha spronato ancora di più a studiare queste materie anche perché avendo preso comunque un liceo che punta di più sulla letteratura, quindi le materie classiche è una bellissima esperienza per chi magari prendendo questo liceo poi vuole successivamente comunque prendere un'università, una facoltà insomma, basata su materie scientifiche. Anche tu sei della stessa idea? Sì, assolutamente. Io da quando ero piccola volevo fare medicina e quindi questa possibilità che ci ha dato il classico l'ho presa subito, l'ho colta subito perché è qualcosa che voglio fare anche poi nel futuro. Quindi è una formazione importante quella che si fa qui al liceo classico con questo progetto? Sicuramente perché si parla di alternanza scuola-lavoro e quindi per chi vuole continuare poi con le materie scientifiche questo è molto importante, è una bella iniziativa che ha dato questa scuola. Qual è la fase un po' più importante di questo percorso? Beh sicuramente gli esami perché comunque danno una preparazione poi a quelli che saranno anche i test universitari. Andrea, che cosa ne pensi di questo corso che avete fatto e che è il secondo anno? Io credo che questo corso sia veramente importante per chi come me ha scelto il liceo classico nonostante porti avanti quella che è la passione per la medicina. Come sappiamo spesso il liceo classico viene accostato ad una preparazione principalmente umanistica e la curvatura biomedica serve proprio per distruggere questi stereotipi proprio perché permette di approfondire materie come la chimica e la biologia. Che cos'è la curva biomedica? La curva biomedica è semplicemente un indirizzo tra le varie sezioni del liceo classico che appunto permette, presenta sempre comunque le stesse materie di indirizzo quindi principalmente latino e greco come proprio materie di indirizzo della scuola stessa ma vi è un incremento già dal primo anno ad esempio della materia quale chimica, biologia. Poi grazie al corso del biomedico abbiamo anche un incremento comunque della conoscenza di anatomia o di biomedicina in generale, dello studio comunque dell'essere umano ed è anche quindi una conoscenza in più, insomma basta avere un po' di passione quindi con Gelo Tullui porta avanti poi per noi ragazzi tra virgolette appassionati della medicina una conoscenza in più per poi il campo universitario sostanzialmente. Grazie